Ciao amici d'accordo, siamo qui con la Deering Company, gli utali che costruiscono banjo in America e cominciamo subito l'intervista. Potremmo dire quali sono le principali elementi che concentrano il tuo lavoro? Il nostro lavoro è di manufatturare quali banjos americani. Il nostro lavoro è molto costruito, molto costruito, gold plattare e ingraverte in custom, hand-cutta inlensi. Il nostro lavoro è molto costruito, molto costruito, ma costruito banjos in America. Questi sono molto semplici banjos, ma sono stati costruiti e funzionati. Quindi noi siamo la più costruita americani banjo. Abbiamo circa 5,000 banjos a anno. Vanno all'overse il mondo. La qualità di i banjos, il corpo, il corpo è molto comforo. Le frets sono allo in il proprio giusto. Voi banjos in Asia, le frets sono sempre non in il proprio giusto. Quindi noi facciano per persone che vogliono un giusto quali instrumento che gioca molto facilmente. In che modo hai chiesto il giusto che hai fatto il giusto? Come abbiamo chiesto il giusto del giusto del giusto? No, il tipo di giusto. Oh, il tipo di giusto. Il giusto di giusto. Abbiamo molto usato la mappa, perché è un giusto molto forte. E' un giusto bellissimo. Abbiamo anche usato un giusto che sono di mahogano. Questi sono tutti di mappa. Abbiamo usato un giusto di mahogano, un giusto di walnut. Quindi i giusto di mahogano, che sono un giusto. Quindi, è dipendendo a quali il cliente ad more. Per il fretboard usate un reboni? Tampai, ok. Ok.